Le carezze avventate della mente Io sono giunto ad essere chi sono anno dopo anno, soffrendo il peso della vita. Da giovane rifiutai le risposte del sentire e preferii le carezze avventate della mente. Avventate, perché lì per lì mi placavano, ma presto diventavano schiaffi e poi carezze, e poi pugni, nelle veglie irrequiete del pensiero. A chi mi intervistava dicevo, mi è arrivato quel libro, ma lo devo ancora leggere. Erano sempre libri della mente. Professore, lei è un maestro, mi diceva una studentessa innamorata, ma il mio viso rifletteva lo sforzo affaticato di capire la vita. Nessuna fede, nessun sentire, l'allegria era una bugia, il pianto era una bugia. Il fuoco della carriera all'università, noia e depressione, il corpo fiaccato dalla lotta del mortale col divino. Certe notti ero così depresso che la mia testa entrava nel cuscino. Certi giorni gruffolavo nel lavoro come un maiale cieco. Non godevo l'ospitalità della coscienza. Adesso, sentire amico, dimmi, in quale spiaggia amena ti nascondevi quando viaggiavo solo con la mente? Me lo spieghi il volo che ho fatto dall'io al sogno che unisce l'uomo a Dio? So, sentire amico, dimmi, Grazie a tutti